ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qui con la nostra classica rubrica simpatica che ci mette in mostra di orologi degli utenti degli amici del canale voi partecipate mandando un video a me come si fa per partecipare caricate il video su wetransfer.com e poi mi mandate il link via email così io lo scarico scarico il link perché voi potete caricarlo con una definizione decente sul portale no sul cloud e io lo scarico in buona definizione e poi li guardiamo assieme e li commentiamo no prima prima andiamo veloci prima di dire l'orologio del giorno rolex explorer da 39 mm quadrante nero un orologio sobrio con i suoi bei numeri al 369 un orologino semplice simpatico e senza troppe pretese adesso però mi sono anche stufato di stare a parlare con voi e quindi io direi di passare al primo video ciao davide ciao riccardo da barese riccardo di farti complimenti per il canale ci volevo dirti grazie grazie per tutti i contributi che ci porti per la passione che ci metti in ogni tuo video che ci mostri parto subito facendoti vedere qualcosa della mia collezione sperando di dare qualche input di interesse e quello lo scopano faccio vedere a vero quelli che sono due classici quarzi che abbiamo un po tutti non nelle collezioni in questo caso non sono due swatch datati una collezione di qualche decina di anni fa ormai una versione un po più dark una versione un po più giornaliera a batteria da quale i nostri nemici mostro quello che è un orologio a mio punto di vista un po più interessante seiko speed timer prospex eco solar è un orologio a cui poi sono particolarmente legato perché essenzialmente me l'ha regalato mia moglie è un 39 mm è un orologio che utilizzo tutti i giorni un fondello a vite fare un buon compromesso ma se quello che può essere appunto un utilizzo quotidiano mi piaceva il discorso dell'accostamento con il quadrante panda con la lunetta è bello orologio si da è bello orologio bello altro orologio che che questo che a me piace tantissimo per il mio gusto personale gerard perego gp 90 crono con data più o meno prodotto dal 90 al 99 al di a di quello che poi il cinturino coccodrillato che ho montato su che mi piace molto mi appassiona per quello che è l'accostamento del quadrante in blue dial con gli indici contatori dorati rispetto a quella che è la cassa in acciaio in 39 mm uno spessore contenuto automatico ovviamente ed è un buon compromesso perché secondo me si riesce a metterci in quella che è un'occasione di vestibilità un po più con abito ad esempio rispetto invece a quella che hanno una condizione un po più sportiva se questo girare perego è un orologio che anch'io tengo sotto controllo spesso sono andato a guardare stilisticamente risente molto degli anni 90 da 90 99 lo vedi è ancora appetibile come aspetto estetico mi piace incassa un calibro 77 53 in teoria sono fatto se non vado errato lo 77 50 se non vado errato e costicchia però è un bel marchio come avere un orologio di un bel marchio spendendo magari il po il giusto nel senso che costicchia per il 77 50 che ha tutto lì discorso altro orologio che ti mostro che secondo me non è stato visto tantissimo sul canale anzi ben poco mdm genev crono è un crono adattare ore 6 è un orologio un po alternativo di qualche anno fa che secondo me molti appassionati hanno un po perso di vista forse perché non ha avuto un grande impatto grande successo a me è piaciuto tantissimo la particolarità è che ovviamente monta o meglio nasceva con quello che era un cinturino in caucciù io l'ho cambiato montato questo bracciale a maglia intrecciata pur mantenendo quella che è una chiusura farfalla un orologio che godo moltissimo si vede un po vissuto ma cerco di farli girare il più possibile di indossarli quando posso insomma altra altro orologio che ti mostro altra alternativa tutor gmt black bay 41 mm caruccio volevo un gmt ho cercato ho studiato un po ho trovato questo compromesso che mi sembra una buona soluzione è un certificato cosca un calibro in house questo monta poi lmt 56 52 essenzialmente un 200 mm in 200 metri lo scotto un po da pagare che effettivamente ha un 14 mm di spessore un po più alto però dal mio punto di vista può essere un buon compromesso ho montato questo cinturino un po estivo per essere alternativo rispetto a quello che è invece una visione tradizionale con il bracciale quindi la classica braccialata è abbastanza impegnativo nonostante io abbia un 17 e mezzo di polso però come vestibilità a me mi soddisfa mi può piacere ma va bene altro orologio che ti mostro uno dei miei preferiti omega seamaster 300 edizione peter break monta questo il 22 54 50 è essenzialmente una storia interessante perché è stato sviluppato per l'american skype o meglio ha un'altra storia altresì particolare nel senso che quando poi sono andato per fare l'acquisto in boutique è un deciso che con la versione in blu dial e stavo comprando quella poi mi hanno mostrato questo che spero si vede sotto la luce è un black dial con quella che invece una ghiera che tira un po più verso il blu al orologio anche anche questo che metto costantemente più che posso è un buon compromesso e sicuramente è una buona alternativa rispetto alle medie da sub che si vedono ormai al gioco oh yes carino mi piace altro sub che ti mostro tudor black bay 58 58 monta anch'esso la mt 5402 differenza ovviamente rispetto a quello che poteva essere il gmt e che in termini al di là di quello che è il concetto di orologio però questo presenta uno spessore molto più ridotto se siamo intorno agli 11 mm contro quelli che sono i 14 del gmt sì ora lo spessore ridotto proprio una scelta stilistica di tudor che crea questa questo lato carour veramente alto la fa apposta non è che non ci riesce no e sono è una scelta stilistica per farlo vedere così bello massiccio perché 11 mm tutti spalmati sul lato senza avere un po fondello senza avere una discesa una smussatura no si vedono subito si vedono si notano quindi è una scelta e pur essendo sottile all'occhio risulta pesante no però è così è così non è che è un orologio spesso non confondiamoci volevo poi un sub alternativo questo l'ho tenuto braccialato tornava di più rispetto appunto quello che poteva essere il nostro è un orologio che metto anch'esso tutti i giorni si vede un po segnato ma mi piace moltissimo e mi dà emozioni e emozioni ultimo orologio che ti mostro quello che ne è costato più fatica è quello che mi dà anche sicuramente tanta soddisfazione rolex cmt master 2 116 710 dunetta blu e nera calibro in house anch'esso monta il 32 85 perché la versione del 2018 questa è arrivato essenzialmente comunque da poco tempo in 40 mm 12 mm di spessore per me rimane uno degli orologi che mi appassionano di più come gmt e molto iconici della casa non aggiungo altro perché credo che insomma siano abbastanza note specifiche e quant'altro bene spero di aver dato qualche input di interesse davide grazie a tutti per avermi ascoltato e vi saluto ciao 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 e niente una bella collezione non ne vorrei nemmeno uno è però è bella ora non ne vorrei nemmeno uno esagio è bello il black bay 58 è bello potrei anche desiderarlo un giorno il gmt di truder un po meno non mi sconfino in frattanto così come gmt di rolex non mi piacciono tantissimo da volerli da bramarli no l'omega invece si master è bello è bello perché ha quell'aspetto no un po comincia a essere vintage quell'aspetto lì e invidio il fondello chiuso di quell'orologio lì però dall'altra parte mi piace anche vedere nel mio nel mio mega si master 300 professional il fondello aperto mi piace vederlo no da una parte mi piace aperto da una parte mi piace chiuso insomma diciamo che non fa differenza tanto è al polso certo che un fondello di cieco massiccio così dà più l'idea di professionalità questo è poco ma sicuro però a giorno d'oggi anche i fondelli trasparenti danno 300 metri di impermeabilità e oltre quindi il problema di professionalità di massiccio di non si pone tanto meglio se si riesce a fare un qualcosa con un vetro zaffero che resista 300 metri anche lì è un esercizio di tecnica comunque bravo tutti i belli orologini promosso dai prossimo video ciao davide ciao amici e canale e oggi apriamo un pacchettino va ok va arrivato appena arrivato ecco qua quel bisturi o tagliati e scacchi mamma mia che condizionatore laggiù che hai tipo un buco del muro e dove sei allora quanto ci vuole la scatola o la scatola da contro scatola contro scatola qui abbiamo il test di impermeabilità meno male qui hanno fatto la prova con il comparatore bravo dai però su con la garanzia o cos'è bella custodia top dai omo sì che si vede è un day just 36 con il suo cinturino quadrante blu a rovescio simpatico dai cosa vuoi dire storologico veramente messo bene ma si diamo un po di carica bravo qui alla ghiera in oro metro plexi c'è bellino da ora un gino del giorno ma è bella quella della casa in oro del 1974 una sua bella cassa moneta sottilissimo scritta eberra la referenza la corona marcata troppo vicino va bene da questo qui anche la sua scatola e la sua garanzia e meno male su di avanti cosa facciamo questo è tutto meno saluto tutti gli amici saluto a te davide sarà la prossima alla prossima niente dai un video un po così un unboxing ci ha voluto far vedere il suo nuovo acchiappo che altri non è che un rolex day just col cinturino in pelle vintage vetro plexi chissà quanti migliaia di euro è speso per questo orologio qua cosa che io non sarei assolutamente capace di fare di spendere migliaia di euro per un orologio vintage proprio non rientra nella mia casistica cioè a me piacciono gli orologi vintage no ma da spenderci quei soldini pochi che cioè spendere migliaia di euro per un orologio così vintage no con quei migliaia di euro mi ci piglio anzi un orologio moderno preferisco così anche perché se ti vai a pensare no è proprio il valore il valore intrinseco dell'oggetto no ora esageriamo perché c'è scritto rolex un orologio vintage rolex costa migliaia di euro un orologio vintage long jeans non li costa li costano anche certi long jeans ma li trovi anche a meno no quindi per fare per collezionare vintage per avere il gusto del vintage si può spendere anche molto meno io non sono non sono un capace un rolex lo prendo nuovo semi nuovo di secondo polso sennò vintage non ci vado su vintage bisogna secondo me bisogna essere dei collezionisti uno collezione i rolex vintage allora ha senso no ma prenderlo così per per meno per me è no mi dispiace ma non volevo essere offensivo e bello rollo ciao davide ciao mi chiamo umberto e ti mando questo video da da roma da roma complimenti per il canale trovato sono un abbonato è un tuo consentimi il termine fedelissimo seguace allora iniziamo subito con la presentazione della mia modesta collezione vai allora come primo volevo guardarti questo po be da cos'è pescara orologio come ben sappiamo di origine russa se non erro al quale sostituito il cinturino mettendone uno blu molto carino serato proprio ad un prezzo veramente stracciato però mi piace fa la sua figurina la fa sul braccio è brutto diciamo la verità è brutto sembra sono deciso se la maglia del pescara calcio o il pigiama da carcerato cioè veramente così è brutto comunque contento te contenti tutti da secondo orologio che voglio presentarti invece questo per sei o tre stelle a con movimento se non erro un nh35 e anche questo è molto carino l'ho visto mi è piaciuto tanto e l'ho acquistato anche questo comunque a buon prezzo bravo poi poi uno zanetto uno zanetto zanetto che se non erro credo sia una ditta italiana che produceva orologi e orologi anche qui siamo quelli che allungano le vocali zanetto è la fa parte faceva parte del di software gray io ce l'ho avuti due o tre software gray ho fatto anche dei video che era la gioielleria sofia di messina che faceva i software gray e poi aveva registrato altri due marchi di cui uno zanetto e l'altro non mi ricordo quale tre marchi faceva facevano questi orologi e facevano assemblare insomma assemblatori ma nemmeno assemblatori secondo me li facevano proprio fare fuori ma comunque zanetto si software gray con movimento svizzero infatti sottoporta una piccola scritta swiss made ecco ce l'ho qui in collezione lo indosso poco ma mi piaceva la sua forma il suo colore diciamo rubino va bene dai sembra una bar ti volevo mostrare questo sector carruccio primi anni 90 bellino un orologio bello che tutto in titanio molto leggero al braccio ed è appartiene ancora quella categoria di sector che produceva buoni orologi infatti è mosso da un movimento età però poi voglio presentarti che l'ho visto anche sul tuo canale di pensino al podium questo certina un ds podium powermatic 80 anche questo un orologio molto carino senza grandi pretese anche questo ecco fa la sua bella figura al braccio mi è piaciuto e l'ho comprato bravo voglio presentarti il regalo di matrimonio di mia moglie mi ha regalato questo Hamilton con il quadrante semischeletrato anche questo è un orologio molto molto carino non ha bisogno di presentazione movimento h10 e quadrante blu e vabbè poi ti presento questo micro brand cos'è a enigma anche questo automatico impermeabilità fino a 200 metri comprato durante una gita in valle d'aosta questo micro band la gita in valle d'aosta cos'è come quelli che vendono le pentole sull'autobus a un certo punto si ferma nella campagna più desolata adesso dovete comprare le pentole qua è successo così allora durante la gita conosco conosco e la particolarità di questo orologio qua è che ha la ghiera che con questi codici per cui se due persone distanti mettono la ghiera in un certo modo nello stesso modo possono poi decifrare un messaggio per me è un po confusionario e non mi piace per niente cioè io non lo comprerò mai un orologio così è mi spiace ma no prodotto da una gioielleria di aosta a questo quadrante come puoi ben vedere con questo sistema cifrato e anche questo è mosso comunque da un movimento nh 35 il materiale devo essere sincero per essere un micro brand un acciaio molto bello molto robusto tra l'altro un edizione numerata io il numero 33 devo dire che mi ci trovo molto bene molto bene anche ben rifinito dell'acciaio il cinturino quindi niente male niente male poi poi ti presento la nuova generazione del sector che purtroppo non è uguale a quella che ti ho presentato prima quello in titanio anche questo automatico si vede chiaramente quello di prima che cercava di avere una identità propria no un design unico sector si riconoscono per quello per quel design lì che aveva mentre questo cosa va a scimmiottare il rolex submariner no quando dice facciamo un sacco facciamo facciamo un sacco di orologi tutti uguali al submariner così facciamo tanti soldi è questo che spinge ogni azienda è spinta da dal margine dal guadagno però è anche un minimo di orgoglio riuscire a fare qualcosa di interessante anche per te stesso come lo vuoi fare come dare dare un segno al mercato un input lasciare lasciare il segno no qua non lasci segno qua copy niente niente cacca ecco come dici tu spesso nei tuoi video si vede un orologio da da centro commerciale però mi è piaciuto perché riprende un po delle forme già note di brand molto 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 più famosi e mi è piaciuto l'ho comprato ad un prezzo anche abbastanza meno male onesto e come ultimo voglio presentarti salvo emilton meno male va khaki field un orologio questo è un orologio che ho visto che hai recensito anche tu tempo fa anche questo molto carino quadrante verde e cinturino nato promosso questo è niente davide questa è la mia collezione spero che ti sia piaciuto un abbraccio a tutti gli utenti un abbraccione mi sia piaciuta la collezione si mi è piaciuta niente di che diciamoci la verità una collezione un pochino diciamo la definirei annaquata è annaquata nel senso che ma io taglierei anche dei rami secchi rimare con meno pezzi ma un pochino che ad esempio cioè voglio dire il sector che cavolo le preso fare avevi già quello bellino degli anni 90 e ti tieni quello lì come esempio di orologeria di quel periodo anche di cadi quella casa lì senza andare a rivangare nella melma adesso no a tirare fuori quello lì e te lo sei messo in casa ma anche no micro brand lì ti è piaciuto in una gita l'hai preso il numero 33 quanti eravate sul pullman 52 te c'è il numero 33 di 52 va bene però anche quello secondo me poteva essere evitabile in questo tipo di collezione dove non hai un qualcosa da che che fa il botto gigantesco no quanto avrei pagato non lo so quanto costa l'enigma però vabbè comunque diciamo dai annaquata ma perlomeno non ho dovuto tirare fuori il cartellino rosso e siamo salvi così prossimo dai ciao davide sono ricardo e faccio anche la presentazione della collezione vai parto dagli orologi della mia ragazza questo è un orologio che si è comprata forse di farle vedere i tuoi video bravo sta appassionando anche lei piano piano è iniziato con questo a me un quarzone però un bell'orologino un quarzone dopo di che le ho regalato qualche tempo fa questo piccolino questo bel eberard acciaio oro simpatico tutto originale tutto marchiato sarebbe da lucidare però fa ancora la sua bella figura ma si bu quindi c'è la bracciale bracciale si stacca fra un po passiamo i miei due orologi di combattimento uomo suocino suocino e casio casino quando devo fare qualcosa che mette a repentaglio gli orologi c'è tutti da fare le cose pericolose dopo di che passo ai vintage universal geneve cassa in oro guardiamo un orologio appartenuto a mia nonna toppino che mia madre mi ha regalato qualche tempo fa bello e ha un diametro ridotto sarà intorno ai 33 millimetri nonostante ciò sul mio polso sta abbastanza bene e ha un effetto sulle lancette minuti ore fantastico tendente al blu probabilmente frutto del materiale degradato con questa lancetta di secondi in contrasto rossa si vedono tutti i segni del tempo sarà altrizio stupendo un altro pezzo molto importante per me constellation questo è un orologio che mi è stato regalato mio padre o meglio l'ho trovato io una bancarella non avevo i soldi per comprarlo avevo intorno ai 16 anni chiese mio padre di comprarlo e me lo comprò quando ancora i prezzi di questi orologi erano modici modici e ne vado molto fiero placato col suo bello osservatorio sul fondello se un bello orologino simpatico poi piace questo è un le monde un orologino di un marchio sconosciuto uno svegliarino però suonava bene quindi l'ho chiappato le monde correva bicicletta poi passiamo a un pezzo è stato un bel colpaccio questo è un orologio che io non ho mai visto è un quarzo è vero però ha una linea e delle degli spigoli e ancora affilatissimi si vede che è stato utilizzato pochissimo ti faccio vedere anche il bracciale com'è bello se piace non ho trovato molto su internet devo dirti la verità ho trovato qualche altro modello con i numeri romani mi piacciono molto di più gli indici ancora addirittura lo sticker del cambio della batteria a batteria mi piace devo dire che io siccome faccio la collezione di longin vintage prima o poi un longinetto a una batteria un quarzetto degli anni 80 ce lo dovrei inserire il punto è che penso che un quarzetto degli anni 80 costerà poco no con poco te lo prendi te lo togli perché il mio scopo è quello di metterlo lì come esempio di tutta la storia di longin quindi non è che voglio spendere dei soldi perché lo devo indossare lo devo no lo voglio mettere lì e no costano tutti quelli che vedo sempre longin al quarto costano boom 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 costano troppo per quello che nella mia testa voglio spendere quindi finché non trovo una occasioncina di un quarzetto longin degli anni 80 prima o poi capiterà quando meno te l'aspetti no è inutile andare a cercare questo qua sarebbe bello perché anche come design è molto molto rappresentativo originale mi piace l'aspett con la crisi idra alata bello orologino ne sono molto contento bravo poi passiamo a un bel seiko skx 013 che bellino questo che è ed è un modello da 38 mm a differenza dello 007 da 42 ed è piacevole perché ha uno spessore abbastanza importante quindi nonostante il diametro contenuto fa sentire la sua presenza al polso poi c'è da dire che io di questa referenza qua di queste referenze qua non ne ho viste molte in giro anzi al momento in cui sto parlando ce l'ha anche il mio amico piero questo qua così da 38 nero no ce la dico al momento perché poi non sa mai se lo vende se però ce l'ha e se l'ho provato mi sta anche benino al polso però il 38 mm con lo spessore non fanno una bella proporzione preferisco quello da 42 mm come ho io il pepsi che è molto più spalmato e quindi mi piace di più però è bellino e poi al fine alla fine fine che l'effetto tombino e ganso faccia suo perché la sua stranezza quasi mai di vedere un 38 mm bello orologino bello orologino dopodiché citizen pro master questo è il full lume regalo della mia ragazza ed è la versione braccialata e io devo sentire sulle opinioni sul bracciale perché c'è da dire che nonostante i materiali non siano materiali eccelsi questa micro regolazione ti permette davvero una regolazione finissima adesso con una mano non riesco ad aprirlo sempre al solito discorso ma si apre qua si va ad allargare va bene mi fido tac bravo ed è il mi orologio del giorno dei postumi diciamo quando sbevazzo questo al polso comodissimo che ragionamento poi passo emilton kagifield mechanical carino io ho scelto 38 mm con quadrante bianco trovo che il contrasto lancette indici ingialliti sia davvero superlativo superlativo bello piace scelto in bianco è uno di tutti e essa bello dopodiché passo a moose watch questa te non piace lo so però io trovo che abbia un senso di esistere ma è stata una buona mossa di marketing sia per omega che per swatch è un orologio che nel complesso porto con piacere al polso ma divertire mission to the moon mission to the moon divertitevi idro con questa bello questione full numeri arabi mi piace io mi sono innamorato di questo orologio una volta che in ufficio l'ho visto al polso di mio collega lui aveva la versione con ghiera arancione rossi ha detto se trovo la versione con la ghiera nera la prendo l'ho trovata con il corredo completo e l'ho presa devo dire che non trovo che le spallette di protezione della corona siano un problema non danno fastidio sul mio polso trovo invece che il bracciale abbia una pecca cioè che non va a rastremarsi così facendo può dare dei piccoli fastidi sulla parte inferiore del polso anche da dire che il materiale della clasp non è non è il massimo il materiale la clasp in sé in realtà evidentemente è una clasp di fornitura si le fanno meglio ora un dello che alla fine del mondo dopo di che ciliegina sulla torta o topid professional moon watch questo è del 2000 un'edizione limitata 9999 pezzi acquisto di settimana scorsa sul fondello riporta la l'epica frase di armstrong all'allunaggio e questo è secondo me un gran bella chiappo perché ha la garanzia italiana di un negozio vicino a casa mia di un concessionario mega vicino a casa mia ma sono molto contento di averlo full set a qualche segno e c'è da dire che il bracciale non è stato lucidato per bene però mi fa impazzire yes e ne sono davvero felice poi per ultimo poi metto quello che per te sarà una ciofeca questo nuovo lo vetto ciccione a cui però sono molto affezionato perché è un regalo di mia madre ho capito in tenere età e quindi lo guardo sempre con affetto e ci faccio una grossa risata quando guarda anche io lo ciccione dice ciao sono l'orologio ciccione ciao davide saluti ciao 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 e con l'orologio ciccione del finale siamo tutti più contenti da una bella collezione che spaziano moon swatch e moon watch si arriva dai due estremi bello l'unico l'unico non l'unico quello che mi ha colpito di più nel senso che era un poco non lo vedevo elogine idroconquest con i numeri arabi che a me mi rimane il pallino qua non ne ho bisogno non mi serve non lo voglio non lo voglio non me lo vendete non chiamatemi loro vuoi no però mi mi piacerebbe averlo cioè così trovassimo perché proprio bello poi dici te che c'è la claspela si vede che di quelle claspetondeggianti che sembrano quasi uguali agli altri no vabbè che 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 ci frega adesso le fanno meglio è tutto migliorato i materiali c'è sempre un miglioramento continuo però quello lì mi piace mi piace con la ghiera rossa forse e il mio amico caramasky ce l'aveva con la ghiera blu scolorita scolorita che l'alluminio lì si va a scolorire quindi faceva anche un bel effetto tipo vintage di quelle comunque dai se è promosso non serve che torni a settembre bravo ciao davide sono giulio e volevo mostrarti la mia collezione di orologi ma va partendo però dagli orologi della signora che ci tiene molto a partecipare a questa rassegna ma soprattutto a prendersi un fantastico chofeca alert per forza questo è un calvin klein calvin klein la batteria in questo caso è ferma è morta lei mi sta implorando di sostituirli ma io non ne ho assolutamente alcuna intenzione però va detto a discolpa di mia moglie che questo orologio glielo ho regalato io chiaramente preso bene dal fatto che calvin klein appartenesse allo swatch ma sì ma sì dai è un buon orologio in effetti lo è a delle buone specifiche è un movimento età al quarzo però galeotta fu quella batteria ma sì ma non sono fatti è impossibile che siano fatti male calvin klein fatti dal gruppo swatch no ma è uno di quei market di moda calvin klein che passa di mano in mano passa di mano al migliore offerente a chi lo fa guadagnare di più gli dice toh famigli orologi metti sul mercato finisce il contratto toh famigli adesso e mettilo sul mercato poi il giorno dopo vada corea del nord toh famigli ti tanto calvin klein e gira sto nome qua per cui ci saranno orologi fatti bene come questi del gruppo swatch quarto tutto quello che vuoi e poi per ormai il marchio poi proprio il marchio di moda che non non è un marchio orologio la differenza di altri un bulgari che fanno robe di moda cazzo nella parte dell'orologeria c'hanno quattro contropalle così chanel no chanel profumo e ma gli orologi c'hanno quattro contropalle così calvin klein moda profumo negli orologi non c'hanno un cazzo di palle ti danno il marchio in gestione e fateli un po voi no quindi non gli vado dietro non c'è impegno non c'è nulla poi è logico che la batteria è tua nemica e se ora è morta no se te la cambi lei rimuore quindi non cambiarla lasciarli così è pericoloso ma gli è questo emilton valiant quindi credo che monti il powermatic 80 io dico di un orologio automatico il suo primo orologio automatico e devo ammettere che è stata una buona scelta perché è servito a farlo un po appassionare insomma l'orologeria e soprattutto un orologio con un gran valore affettivo perché è il regalo che gli ho fatto per celebrare la nascita di nostro figlio lorenzo congratulazioni ok passiamo ai miei orologi anzitutto questo citizen anche questo a batteria chiaramente allora è un orologio che mia moglie mi ha regalato per la laurea molti anni fa nel 2011 è un orologio che per circa 10 anni è stato fondamentalmente il mio unico orologio avevo un discreto numero di altre ciofeghe che sono riuscito a vendere in blocco al mercatino ricavando poi 100 euro assomiglia particolarmente a un ivc al gst che è un cronografo automatico e ti faccio la prima domanda ti chiedo cosa pensi del gst di ivc a me questo orologio banalmente è servito a scoprire la l'esistenza di questo orologio ivc che non mi dispiace e volevo sapere un po tu che cosa ne pensi non lo so ora non me lo ricordo sì l'ho visto è quell'ivc lì ma non mi sembra niente di particolarmente sconvolgente e non mi sembra nemmeno che questo gli assomigli poi così tanto stiamo parlando di tre contatori bah non so sinceramente io non ricordo l'ivc gst lì che calibro in cassa quindi non saprei nemmeno dirti no non ti sono non ti so essere d'aiuto mi dispiace ok passiamo gli orologi automatici questa in realtà è una delle mie ultime acquisizioni un ventino un camaso onestissimo questo l'ho comprato con i 100 euro degli oro degli orologi ciofe che vendute al mercatino che mi ha fatto buon uso insomma un orologio che usa il mare in tutte le situazioni in cui insomma non voglio pensare troppo a cosa ora al polso ti mostro poi un khaki field da 38 mm automatico questo è stato il mio primo acquisto consapevole è un orologino che uso tantissimo il mio video watch è piuttosto vissuto ma veramente un gran bell'orologio soprattutto è il più preciso dell'otto da mettere è una cronometria molto molto buona e powermatic 80 di emilton è sempre messo che se ne dica non ti chiedo cosa ne pensi perché tanto ce l'abbiamo tutti ok poi il primo seiko è questo presage con quadrante super lavorato è un orologio bellissimo secondo me esteticamente veramente fa una gran bella figura le finiture meritano sinceramente i soldi spesi per questa tipologia di seiko a mio modestissimo parere non so per quanto tempo ancora lo terrò in collezione perché è un po grandino 39 mm 39 va bene mi farebbe piacere prendere un 37 mm magari un king seiko quindi non so per quanto tempo ancora lo terrò lo sto usando non è tanto 39 mm anche per la tipologia di orologio braccialato con questa forma di cassa secondo me per me sarebbe l'ideale però ci sono anche orologi che dimostrano più del diametro che hanno questo quadrante bianco ci sta anche che dal polso ti stia un pochino grande sicuramente se vai a prendere un 37 mm il king seiko e non sbagli fai un upgrade sicuramente perché è migliore proprio come finiture come cassa come bracciale mamma mia che mi segue proprio bello è uscito anche da 38.3 ma l'attacco bracciale alla cassa non è che mi fa impazzire e poi è uscito che da 39 il king seiko che quello sarebbe più adatto a me però se non è che si può pigliare tutto e sennò qua abbastanza poco però un gran bell'orologio pecca un po il movimento perché non è precisissimo si magnetizza come se magnetizza insomma i movimenti non sono un granché il parità di prezzo il powermatico tanto è molto meglio come si magnetizza facilmente dovevi un attimino spiegare meglio cosa intendi dire cioè ti si è magnetizzato e da cosa te ne sei accorto va avanti minuti al giorno si magnetizza e come fai lo porti a smagnetizzare dall'orologiaio quindi vuol dire che l'hai portato più volte dall'orologiaio a farlo smagnetizzare la domanda è questa se non me lo dici oppure non hai capito il concetto di smagnetizzare pensi che va regolato spesso che ne so hai capito se no non ci hai approfondito il tema peccato comunque Seiko nel mid range fa dei buonissimi orologi questo è l'SPB 247 con un quadrante caffè diciamo quindi un marrone molto profondo gli indici e le sfere dorati molto figo come orologio veramente bellissimo mi piace gli ho messo lo strapcode perché questo di serie esce con un cinturino in gomma comunque molto carino inverno lo uso col cinturino in pelle e devo ammettere che sta benissimo anche qui il movimento non è proprio un granché in quanto a precisione però insomma allora qui ti faccio una seconda domanda e vorrei nel prossimo futuro diciamo sostituire questo orologio con un Black Bay 58 in realtà però ogni volta che metto questo orologio mi rendo conto di quanto mi piaccia e di quanto sia effettivamente un peccato per quello che costa perché comunque secondo me il prezzo di questi orologi di Seiko contando che sono appunto dei diver certificati non è proprio così esagerato mentre il prezzo del 58 chiaramente è tutta altra roba li vedo come orologi che nella mia collezione si andrebbero un po' a sovrapporre mi dispiacerebbe non utilizzarli fammi sapere un po' cosa ne pensi sinceramente non lo so non credo lo venderò mi piace veramente tantissimo mi sembra che c'è un po' di confusione questi diver certificati certificati da cosa? chi l'ha detto? dove? perché? cioè che lo sappia non esiste uno di questi diver che compriamo noi con un certificato che ti attesta una qualsiasi cosa quando si dice un diver certificato un professionale è perché la casa nel costruirlo segue le specifiche ISO che sono vigenti al momento allora se io lo faccio così 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 e così questo è un diver che segue le specifiche ISO ma non è che lo mandi a un ente esterno che ti fa i controlli che ti fa le prove e ti torna lì sì questo è un diver certificato ISO oppure certificato pinco pallino che abbiamo fatto no quindi certificato non capisco perché lo dici perché fa parte della famiglia Prospex che sono i professionali no non va bene detto questo è questo un orologio che a me piace molto che vorrei anche io che prima o poi magari vorrei anche io e io sinceramente che tu lo vuoi vendere per un Black Bay ah no io non ci sto non ci sto perché io terrei sia questo che quell'altro non si sovrappongono per nulla questo è un esempio di orologeria giapponese quell'altro è un esempio di orologeria svizzera poi come forma come cassa come profilo come quadrante non si assomigliano a niente sono due diver con ghiera e allora si assomigliano tutti anche l'Oginidro Conquest di prima è un diver con ghiera cosa facciamo? ce ne compriamo uno solo poi basta perché gli altri sono tutti uguali no non sono uguali io non lo venderei detto questo casomai se vuoi aggiungerlo risparmi vendi qualcos'altro ma non questo questo qua è bello poi ti faccio vedere un mio dress watch l'unico dress watch della collezione Young Guns Max Bill in versione Bauhaus quindi con le sfere e la data in rosso e una versione che ho questo zaffero bombato è bellissima secondo me in questo caso non c'è il plexi ma lo zaffero la cassa è sabbiata la fibietta è sabbiata e l'altra cosa molto carina è il fondello di questo orologio che riporta una versione insomma stilizzata del museo Bauhaus della Young Guns è un orologio bellissimo che uso pochissimo infatti è tipo un nuovo ma che non riesco proprio a farmi venire in mente di venderlo mi piace troppo non si è mai visto credo su questo canale insomma mi faceva piacere anche portarlo e farlo vedere un po' agli appassionati credo che si se te hai scelto la versione un pochino più moderna più contemporanea meno aderente alla tradizione nel senso cassa sabbiata grigia accenti rossi data no è abbastanza contemporanea è un'evoluzione no da vendere no perché non è da vendere perché è uno di quegli orologi che in una qualsiasi collezione spicca per personalità perché va a rappresentare quello stile di architettura Bauhaus che non molte case sanno riproporre Nomos magari ci riesce poi c'è Jung Kers ma Jung Kers sono un po' pacottiglia questo è un orologio che rappresenta quello stile lì e va tenuto dai è una serie diciamo speciale ma non limitata dovrebbe essere in produzione costante Oris Aquis un bello orologiazzo massiccio questo è il calante Deep Blue e Ghiera in ceramica nera orologio super sportivo però che sa anche insomma avere una sua eleganza perché ha tantissime cromature è veramente un bellissimo orologio avevo la versione da 41 e mezzo l'ho venduta per prendere questa da 39 e mezzo con cui mi trovo meravigliosamente e non è troppo piccolo assolutamente e un bracciale integrato in realtà secondo me non lo rimpicciolisce assolutamente e fantastico 39 e mezzo super super figo vedi ognuno ha le sue esigenze i propri gusti giustamente io considero in questo orologio considero la versione da 43 perfetta grande è grande ma è perfetta perché è un orologio muscoloso e già che sei muscoloso fammeli vedere questi muscoli praff quello da 41 tanto tanto anche quello va bene forse è il miglior compromesso tra quello da 39 lo considero piccolo per me invece te quello da 39 e mezzo quello che è lo consideri perfetto ognuno ha i propri gusti meno male che ci sono queste case che te le fanno in tre versioni addirittura anche l'onji con l'idrocon che se lo faceva non so se lo fa in due o tre misure lo facevano anche da 44 ce l'ho avuto da 44 è bello quando una casa fa un modello lo declina in diverse dimensioni costa di più cioè a loro gli costa di più fare tre casse però ti danno più possibilità di scelta ok poi i miei orologi tra virgolette più belli almeno il mio eccolo qua maurice lacroix icon super conosciuto anche questo ce l'abbiamo in tanti ma è un orologio importantissimo perché è l'orologio con cui mi sono sposato è l'orologio che mi ha regalato è il regalo di matrimonio di mia moglie bravo e con questo mi sono sposato ed è stato il mio primo effettivamente orologio di lusso e secondo me come primo orologio di lusso va benissimo perché davvero ti fa capire cosa vuol dire diciamo un certo livello di finitura è super 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 anche ottime specifiche è veramente un gran bello orologio ci sono molto affezionato ogni volta che lo indosso è sbarazzino luccicante quindi bello veramente un prodotto molto molto ben riuscito di maris lacroix sì poi un altro orologio importantissimo è questo spettacolare Longigine Spirit con un quadrante champagne champagne pazzesco questo è uno di quegli orologi che mi è capitato appunto di provare e di sentire veramente un'emozione pazzesca una volta messo al polso è insomma veramente uno spettacolo e anche questo è importantissimo perché è l'orologio che mi ha regalato mia moglie per la nascita di nostro figlio super veramente non so cosa altro dire se non che lo adoro probabilmente è l'orologio che preferisco di tutta la mia collezione è bellissimo è veramente molto bello e infine ti mostro l'ultimo orologio che ho preso veramente pochissimi giorni fa ed è questo spettacolare ecco Omega Constellation versione diciamo precedente a quella che hai tu eh sì io l'ultima versione proprio non non mi va molto giù nel senso che credo che l'abbiano troppo rimodernata questo mi sembra un po' più fedele agli stili Mivintage proprio per il suo bracciale così super lineare il suo loghino Omega in oro giallo e questa è la versione col quadrante diciamo black piatto e calibro 8500 di Manufattura Omega super preciso super ma soprattutto super bello è un orologio che mi piace veramente tantissimo 38 mm lo indosso con piacere e sono 38 mm che vestono un po' più grandi ma veramente ci stanno alla grandissima e insomma niente con questo finisco appunto la carrellata dei miei orologi ti faccio complimenti chiaramente per il canale e infine ti faccio una piccola domanda mi piacerebbe prendere un cronografo aggiungere un cronografo e ti chiedo cosa potresti appunto consigliarmi rimanendo su una cifra tra i 3 e i 4000 con un diametro cassa massimo di 40 mm un salutone ciao 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 e non so cosa consigliarti dai sinceramente ti consiglio gli orologi sono sempre è uscito da poco ora mi viene in mente il loris il loris diver 65 da 40 mm cronografo quello lì può essere un bel orologio un po' diverso dagli altri secondo me poi c'è l'emito intramatica come quello che ho io ci sono un sacco di microbrand che fanno orologi cronografi da 40 mm cala mai non c'è cala mai non ci sono altri microbrand italiani che li fanno sì c'è una marea non so cosa consigliarti tutti sono fatti bene tutti sono fatti bene io addirittura il Villervetta c'è no ce ne troppi non vedo non vedo perché dovrei sbilanciarmi a dirtene uno ti dico l'intramatica perché mi piace a me perché ce l'ho cosa vuoi che ti dico ti dico quello poi la collezione è bella l'Omega Lee Constellation che dici che preferisci quello per l'amor del cielo sì ma ha l'aspetto più vintage come dici te però stavo guardando quel bracciale lì con quelle congiunture che sono larghe tanto quanto il bracciale mentre nel mio che è il modello nuovo sono più strette lo alleggeriscono di molto questo qua ha un bracciale che a vederlo così è pesantissimo alla vista cioè però è un bel orologio per l'amor del cielo contento te contenti tutti ritengo comunque che il modello nuovo sia per me più appetibile più attraente poi il resto belli orologi tutti i belli orologi compreso il Maurice Lacroix Icon che da sempre c'è quelle finiture che non gli si può dire niente proprio regalo di matrimonio ti ha fatto un bel regalo la signora tutti i belli orologini bravo non vendere i secoli la riedizione del 62 Mas quello che è non lo vende tienerlo perché è bello è bello dai boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video che li avete guardati con me o perlomeno che vi sia piaciuto l'amico presentatore che si fa il mazzo per illustrarvi gli orologi di chi ci segue e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti